L'Europa continua a fare orecchie da mercante sul tema dell'immigrazione. L'Europa sta facendo quello che ha fatto in tutti questi mesi, è un atteggiamento comunque tenuto dall'Europa anche grazie ai voti che Renzi e il PD ha fatto in tutti questi anni, comunque appoggiando qualunque scelerata scelta contro l'Italia messa in campo, ora fa un po' la voce grossa, Renzi temo, credo, anzi sono sicura che sia dovuta alla questione del referendum, per cui presto vedremo sicuramente dei movimenti da parte del governo completamente diversi, noi più che chiedere flessibilità a quello che è stato chiesto all'Europa per quanto riguarda gli immigrati, dobbiamo chiedere all'Europa che ci aiuti a fermare quest'ondata di migrazioni, persone che sono principalmente clandestini, come diciamo sempre, come ci dicono anche i dati del ministero, bisogna fare i campi profughi là, ovvio che non si possono fare in Libia, spesso sentiamo gli esponenti del PD dire, lì è impossibile, ma ci sono tanti altri stati dove farli, uno su tutti ad esempio noi ci dovremmo chiedere come mai che il Marocco non è diventato, visto che è un posto sicuro per quanto riguarda tutta la questione politica, e anche una nazione comunque in forte crescita, ha avuto un attimo di stop quest'anno per dei problemi legati all'agricoltura, però a una crescita che noi ce l'avessimo in Italia, saremo solamente che felici, questi posti devono diventare i posti dove fare i campi profughi, dove riconoscere lì le persone che vanno comunque salvate, perché noi ci troviamo a fare arrivare una marea di clandestini nel nostro paese a non salvare in realtà le persone che realmente andrebbero salvate, abbiamo, o per meglio dire, il PD ha la coscienza sporca di tutta la gente che muore in mare e tutta la gente che finisce nelle mani della criminalità organizzata nel nostro paese, e tutto questo, le uniche persone che ne traggono un vantaggio sono le cooperative, questo bisogna dirlo, il vero dramma che stiamo vivendo è che gli italiani non riescono più a essere aiutati da un sistema del welfare che è saltato, un sistema del welfare che è stato spostato di fatto sugli immigrati che ne usufruiscono anche parzialmente, perché quelli che ne usufruiscono sono queste grandi piccole cooperative, abbiamo visto e vediamo di continuo situazioni trattate dai giornali, dai telegiornali, situazioni invivibili dove vengono messe queste persone, oppure dall'altra parte situazioni come super hotel, dove vengono messe persone che sono di fatto clandestine, ti dicono non mi va bene l'acqua, vorrei i vestiti firmati perché non c'è il wifi, e poi di fianco magari vediamo il padre separato, la persona che non è riuscita ad andare in pensione per colpa della fornera, o dormire in macchina e non arrivare a fine mese. Ecco, chiedo anche, l'ipotesi questa del ticket che viene discussa oggi per entrare nell'area Schengen 5 euro, può arginare almeno in parte questo fenomeno dell'immigrazione clandestina, ovviamente esteso ai paesi extra europei? Ma il grande problema che c'è di tutti i paesi che non sono l'Italia, che l'Italia riconosce, oltre quello che è il permesso dato alla persona che scappa da una guerra, altri permessi che gli altri stati non riconoscono, per cui di fatto sono clandestini, quello che per noi è il permesso umanitario o sussidiario, che poi dopo viene dato magari al migrante climatico, perché abbiamo sentito anche questo, quello che fugge perché non riesce più a coltivare la sua terra per colpa della desertificazione, viene riconosciuto solo da noi, per cui anche in una divisione di quote o in una qualunque ipotesi, ovviamente queste persone non potranno essere ricollocate da nessun'altra parte, allora o ci si siede e si affronta seriamente il tema per aiutare le persone che vanno aiutate, senza fare affondare e sprofondare l'Italia, perché noi eravamo qua un paio di mesi fa, prima dell'estate, a parlare di una mini Schengen, quello che poi dopo ora abbiamo davanti e sotto gli occhi tutti, con un PD che negava che poteva accadere una cosa del genere, noi siamo diventati un enorme campo profughi, lo siamo diventati perché abbiamo avuto una politica, di chi ci gestisce completamente prona all'Europa, perché durante il semestre europeo Renzi non ha fatto niente per arginare questo fenomeno, non ha fatto niente, è andato a chiedere flessibilità, a chiedere dei soldi per poter dare durante le elezioni comunali e lo scorso referendum, e durante questo referendum sta cercando di avere questa flessibilità per poter dare, fra virgolette, dei regalini, come se gli italiani fossero tutti stupidi, dei regalini da dare per avere un voto, cioè assomiglia molto al voto di scambio quello che stiamo facendo ora, io ho sentito oggi Renzi che diceva sulle aziende del meridione che assumeranno, avranno delle leggi di contribuzione, ormai siamo alla fase ricchi premi e cotillon, cioè regaliamo qualunque cosa, votate no, solamente che questo lo stiamo facendo sulla pelle degli italiani e sulla pelle degli immigrati. E intanto l'emergenza continua, siccome più tardi tratteremo anche i casi specifici nelle varie città, le chiedevo intanto come sta andando nella sua città a Bologna, a che punto è l'emergenza migrante? Da noi c'è un grande problema che è iniziato a luglio 2014, perché il sindaco, non c'è stato in posto, l'ha voluto il sindaco del PD Merola, è stato aperto uno, perché ora ne abbiamo due, uno è degli hub regionali di smistamento, per cui noi ci troviamo con un territorio sovraccarico di persone clandestine, perché molte sono fuggite appena arrivate qua con i pullman, circa il 40%, erano gli ultimi dati che abbiamo avuto, in più c'è tutto un problema legato anche a quello che sono i controlli sanitari appena arrivano, perché spesso ne arrivano troppi, arrivano direttamente appena sbarcati, non hanno avuto i controlli adeguati, se non hanno il controllo quello proprio sanguini, stai male, hai la febbre alta, arrivano qua e non li hanno neanche qua, addirittura spesso li hanno nel secondo posto dove vengono spostati, noi su Bologna abbiamo addirittura 500 persone con il foglio di via dato dalla questura, che di fatto però non sono mai state cacciate, perché quello che oggi è l'hub un tempo era il CIE, un grande problema che noi abbiamo in Italia, che sono rimasti pochissimi centri di identificazione, molti di questi funzionano solamente a metà, perché ci sono stati dei problemi per cui non funzionano in toto, allora anche quando si prende qualcuno, che magari viene da una nazione come il Marocco, dove abbiamo degli accordi per poterli rimandare là, per cui non ci sono problemi, abbiamo accordi con lo stato del Marocco, non abbiamo, se non c'è un aero, subito un posto dove poter tenere queste persone che andrebbero allontanate e gli si dice fra una settimana, cinque giorni, due giorni, venite all'aeroporto che vi portiamo di nuovo in Marocco, ovviamente come tutti possono immaginare non si presenta nessuno.